Il primo febbraio 1922 nasceva Renata Tebaldi e a cento anni dalla sua nascita Pesaro celebra la più grande cantante lirica italiana con un calendario ricco di iniziative. Pesaro per Tebaldi 100. Così è stato intitolato il progetto musicale dedicato alla sua concittadina, considerata una dei soprani più amati di tutti i tempi. Un programma all'insegna della musica che si svolgerà da febbraio a dicembre 2022, dove verranno coinvolte tantissime organizzazioni e istituti come il Conservatorio Rossini, l'Orchestra Olimpia, l'Orchestra Sinfonica Rossini, il Wunderkammer Orchestra e tante altre realtà musicali del territorio. Questa mattina ho sentito una carrellata di proposte e di progetti che mi hanno riempito di gioia perché in varie forme Renata verrà ricordata sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista umano. Le proposte invece ideate dal Comune di Pesaro sono due ed entrambe si svilupperanno tra luglio e agosto. La figura di Renata verrà infatti omaggiata con un programma itinerante, dal titolo Passeggiata Tebaldi, ovvero una camminata urbana, visuale, auditiva, alimentare e conoscitiva. Renata Tebaldi, il mito del canto, lo stile di una diva, è invece il nome dell'evento di punta organizzato sempre dal Comune di Pesaro che avrà sede nell'iconico Museo Nazionale Rossini. A luglio ci sarà questa mostra che attraverso abiti, oggetti e documenti che sono appartenuti a Renata Tebaldi cercherà di raccontare appunto al pubblico di oggi chi è stata l'artista ma anche chi è stata la donna, come ha vissuto, quali sono stati i suoi interessi e anche le sue debolezze se vogliamo, le debolezze umane per cui per una donna la passione è per gli abiti di moda, per i cappellini, per gli oggetti femminili. Attraverso foto e documenti? Attraverso foto, documenti ma soprattutto testimonianze tangibili, quindi non parleremo e non vedremo soltanto in fotografia i suoi cappellini ma li potremo quasi toccare. È già partito il Tebaldi 100, è partito con una mostra all'Iseo di Barcellona il 26 di gennaio e poi naturalmente come ho detto siamo in giro per il mondo, New York, Chicago, San Paolo del Brasile, Montreal e soprattutto saremo a Pesaro, città dove Renata è nata e devo dire io sono veramente onorata che Pesaro ricordi e ricorderà Renata Tebaldi con la partecipazione di tutte le associazioni musicali e le istituzioni pesaresi.